L'ampi di Tolentino, querelle con l'amministrazione comunale, sulla sede non è stata rispettata la promessa fatta. In che cosa consiste? Ricordiamo qual è la storia. Noi da 70 anni stavamo su una sede, che era la sede dove i cittadini che erano contro il fascismo venivano portati su questa sede, penso che i volentieri venivano torturati, eccetera. Per noi era un presidio, era mantenere la storia di questa città in quel palazzo, che era una stanza di 3 metri, 3 metri e mezzo, non di più. Da quando fu fatta la prima delibera di vendita di quel palazzo, e all'epoca il sindaco era Foglia, Giuseppe Foglia, e ci aveva promesso che non ce l'allevava questa sede. Poi nel tempo, con l'amministrazione Ruffini, hanno cominciato a elaborare l'intervento su questo palazzo e anche loro sono rimasti fedeli alla promessa fatta da Foglia. Poi un anno e mezzo fa incontrai Ruffini, c'era anche mia moglie, Ruffini e Pezzanesi, e io ho fatto anche delle pressioni su questa sede. Pezzanesi ha assicurato a Ruffini che questa sede a noi ci veniva restituita. Oggi questo non è più, perché poi i progetti vengono modificati nel tempo, in basso alle giunte, all'amministrazione che subentrano e ci hanno portato i rivici umani. Tutto va bene, solo che loro sono andati ad occupare anche la nostra piccola sede che si trovava alla parte opposta del piano dove stanno i vicini urbani. Ci hanno risposto che purtroppo dovevano fare i lavori, i locali gli servivano e è finita così. Dove c'era la sede oggi ci hanno fatto i bagni, probabilmente potevano evitare di farci i bagni perché sotto ce l'hanno fatto un altro sul piano terra, pertanto penso che un bagno poterà passare per tutti. Va bene, solo che noi oggi non abbiamo più quella sede storica, dopo 70 anni c'è stata tolta e non è che è dispiaciuto solo a me come Presidente dell'Ambria, ma è dispiaciuta tutta la sezione. Prima le altre amministrazioni ci aiutavano annualmente per fare le iniziative. Ma questa non è politica? Ma non lo so, certo che qualcosa non va.